bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tante tante novità per quello che riguarda la season numero due di fortnite il primo giorno vissuto un sacco di roba nuova nuovi outfit nuove location nuovi segreti collaborazioni e gameplay insomma storyline tante notizie tanti leaks nel video di oggi volevo subito ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per sciopazzare di prepotenza nello shop non dimenticatevi di iscrivervi ai canali e soprattutto non suona di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento sul mio video delle 13 e 30 ma nel video di oggi ragazzi andiamo a parlare di un sacco di novità partendo dalla skin deadpool quindi abbiamo visto che nel trailer di questa season 2 c'è stata una skin o meglio un personaggio che già conoscevamo e posso confermarvi e farvi anche vedere in game che la skin arriverà parleremo anche di tutte le novità presenti in questa season numero due e ovviamente non mancherà una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima comunque la domandina ve la voglio fare sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto voi che rispondete alle mie domande e quella di oggi è davvero super semplice ma tu da che parte starai dalla parte dei fantasmi o dalla parte delle ombre e sì perché la storyline di questa season parla proprio delle due fazioni fantasmi contro ombre che sono ovviamente in combutta tra di loro e che sicuramente non ci lasceranno un attimo di pace e ci accompagneranno da qui fino alla season numero 3 che vi ricordo inizierà il 30 aprile ultimo giorno di questa season sarà il 29 ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo a vederla la nuova mappa nuova mica tanto perché è sempre quella però sono cinque le location che sono state inserite partendo in alto a destra c'è la yacht questo yacht appunto gigante dove sono presenti gli scagnozzi così come nelle altre quattro location nella parte opposta della mappa troviamo invece lo squalo the shark dove si vede proprio questa roccia enorme a forma di squalo scendiamo verso il basso dove c'è invece la piattaforma anche questa vicino a putrido pantano e dalla parte opposta rimanendo sempre nelle coste della mappa troviamo la grotta quindi proprio sotto molimolesti con questo enorme cratere dove si può entrare e ognuna di queste location ha un sacco di cunicoli e di passaggi segreti per uscire velocemente muoversi in maniera furtiva e tanto tanto altro lascio per ultima una delle più belle che sono state inserite che si trova proprio al centro della mappa l'agenzia li succederà tutto li sta succedendo tutto ragazzi e ovviamente non mancheremo di scoprire tutti i segreti che questa location ci riserva ma andando avanti ragazzi eccola la prima grande novità di questa season consumable are now enjoyable catch cosa vuol dire vuol dire che da adesso tutti i consumabili potranno essere lanciati gli scildini le bende i medikit i pesci e tutto quello che vi passa per la testa lo potrete proprio lanciare se giocate da mouse e tastiera una volta che avete in mano ad esempio lo scildino tenete premuto il tasto sinistro come se doveste lanciare non lo so mi viene in mente le bombe appiccicose no avete presente una volta che avete preso la misura con l'altro tasto il tasto sinistro lo lanciate questo si rivelerà utilissimo soprattutto quando giochiamo in duo o in squadra appunto per passare proprio letteralmente le cure ai nostri compagni di squadra ma come state già vedendo nelle alle mie spalle è cambiata tutta la lobby pre game davvero meravigliosa perché è diventata molto più interattiva siamo in questa schermata per la precisione nella parte in alto a sinistra dove ci sono tutti gli agenti sì perché sono cinque gli agenti che verranno sbloccati nel corso di questa stagione ed ogni agente ha poi la sua parte bianca e la controparte nera quindi due outfit che vanno un pochettino a modificarne l'aspetto esteriore per poter ottenere questi outfit dedicati dovremmo completare delle missioni specifiche ora mi ricordo che quelle del nostro agente brutus richiedono oltre di terminare tutto il primo set che è già disponibile di sfide anche raggiungere il livello 20 del pass battaglia e poi ce n'è un'altra che non mi ricordo comunque davvero molto molto bello anche perché rimaniamo sempre in poche parole con qualcosa da fare nella lobby tra l'altro è anche presente una schermata che non è ancora attivata sempre sulla parte di destra dove c'è proprio il tavolo centrale della lobby troverete un piccolo computer premendoci sopra si vedrà questa schermata di caricamento dove ci sono proprio appunto entrambe le fazioni una versus l'altra ma ancora non sappiamo nulla perché è tutto in costruzione in attesa vedete già che abbiamo un'altra notizia interessantissima perché nei file di gioco sono stati recuperati delle sono state recuperate delle informazioni sui nuovi legends pack o insomma quelli che potevano essere nelle precedenti season il lava legend il frozen legend il dark legend ok tutti quelli ce ne sono tre nuovi lo slurp bandolette scusatemi ce n'è uno nuovo che ne prende tre di skin lo slurp bandolette lo slurp johnsy e lo slurp leviathan quindi tre skin con il tema che le accomuna del succo slurp non abbiamo ancora nessuna fotografia ma abbiamo già le informazioni quindi aspettiamo di trovare qualcosa non appena inseriranno penso a questo punto già nella prossima patch 12.10 e andando avanti ragazzi una curiosità questo non è pazia pura ma per arrivare a livello 100 senza comprare senza scioppare nessun livello del pass battaglia serviranno 7 milioni 490 mila punti esperienza sono tanti ma sono anche fattibili se ci pensiamo un attimino vi ricordo che questo dovrebbe essere una season normale tra virgolette 69 giorni la durata della season che terminerà il 29 aprile la season numero 3 in realtà inizierà però il 30 quindi staremo a vedere e speriamo che non vadano a posticiparla come è successo con questa season ecco alle mie spalle ragazzi la ricompensa anche per questo capitolo della vittoria la prima vittoria che fate vi regalerà l'ombrellino molto bello perché ha delle degli effetti appunto luccicanti e come vedete vanno a richiamare quello che è un po il filo conduttore di questa season che è il metallo più prezioso l'oro e basta che vincete una partita in singolo in duo o in squad e lo otterrete quindi assolutamente niente di difficile e andiamo avanti perché parlando proprio di Deadpool prima di salutarci c'è una parte dedicata a Deadpool nella lobby dovete andare dove c'è la ventola che gira cliccarci sopra si trova in alto a destra nella lobby ed entrerete nella come dire Tana nel rifugio dove sembra esserci Deadpool tutto conciato veramente malissimo in basso non so se lì riuscite a vedere il mio dito dove vi sto indicando c'è la lettera che Deadpool ha scritto ad Epic Games che vi serve anche per completare una missione e c'è anche un computer questo computer ragazzi come vedete vi farà apparire questa schermata dove ci sono gli obiettivi da completare per il momento sono solamente due non è detto che ne arrivino altri se invece non avete il pass battaglia vi darà questa schermata di errore queste sono intanto le immagini prese dalla dalla sua dalla sua dal suo Tana dal suo rifugio e se completiamo le due missioni che sono semplicissime otterremo il banner di Deadpool prima di salutarvi però vi avevo già anticipato che vi voglio far vedere la skin che è presente appunto già in game e la skin è proprio questa ragazzi quindi assolutamente fedelissima all'originale niente di esagerato però devo dire che non è affatto brutta io Deadpool l'ho visto un paio di volte non è che ci sono così affezionato però perché no ragazzi la skin merita merita davvero tanto e sicuramente potrà diventare un bel pezzo per la nostra collezione insomma ragazzi anche per oggi il primo video delle news della season 2 è terminato io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo anzi siamo già in live sulla piattaforma viola ciao non parte l'altro mannaggia a me